Angela, Elena, Sofia, Giuliana, Samuele Adesso siete liberi, no? Non c'è bisogno di spiegare la morale, l'avete capito benissimo I figli hanno bisogno di realizzarsi per quelle che sono le loro qualità e i loro desideri E' logico sempre guidati, sempre indirizzati Ma mai realizzare sui figli le vostre aspirazioni e le vostre ambizioni Allora vogliamo dire grazie a questi bambini Ricominciamo a settembre, no? Ottobre Ricominciamo ad ottobre Ringraziamo Viviana, ringraziamo Caterina Ringraziamo Cristina, una scuola di parrucchieri che le hanno tutte attistate Ce li hanno fatti diventare grandi, già siete alte di vostro Mo' a giocare con le bambole di nuovo, mi raccomando Si cresce piano piano Grazie, adesso si va a mangiare Festeggiamo San Giovanni, festeggiamo la recita, festeggiamo tutto Grazie, grazie Grazie per questo regalo, va bene?